Siamo il 2 agosto alle ore 21, 21 e 30, sarò sul palco con dei musicisti di eccezione perché avrò Marco Rovinelli alla batteria, Michi Scarabatoli alle tastiere, Danilo Fiorucci al basso, quindi un quartetto poi ci saranno anche degli ospiti che adesso non svelo. Che cosa farete a ascoltare al pubblico presente? Allora, innanzitutto sta uscendo, o meglio uscirà in agosto, un album che si intitola Another Family e l'etichetta discografica è la Universal. È già uscito un singolo che si chiama Dr. Gum is in the house e sta riscuotendo diverso successo, 25.000 visualizzazioni in 10 giorni, è già uscito in delle radio a Manchester, in Inghilterra, diverse radio in Italia e quindi dai, siamo carichi. Appuntamento per domani sera. Vi aspetto tutti quanti.